viaggiare aprire i sensi rilassarsi le tue emozioni vogliono tornare a muoversi per farle ripartire basta raggiungere uno dei 1700 agriturismi lombardi un'esperienza autentica che mette insieme natura buon cibo e ospitalità per evadere dalla routine ed essere vicino a tutto quello che desideri scoprire i sapori dove salumi formaggi vini frutta e verdura sprigionano tutte le caratteristiche tipiche del territorio lombardo un viaggio sensoriale a chilometro zero e gusto a mille vivere la natura tra campagna e colline che seducono lo sguardo e riscaldano il cuore incontrare persone dove la parola accoglienza significa soprattutto calore far felici i bambini che possono scoprire la fattoria vedere da vicino gli animali e toccare con mano i prodotti della terra che arrivano sulle nostre tavole sarai immerso nella campagna della prima regione agricola d'italia ospite di strutture con rigorosi standard di qualità un viaggio che ha altri viaggi dentro perché una vacanza in un agriturismo lombardo ti porta vicino ai laghi alle montagne ma anche ai siti di storia e cultura e quando al relax estremo vorrai aggiungere un po di movimento ti aspettano escursioni nella natura o in sella a una bici per tornare a viaggiare non bisogna per forza andare lontano basta scegliere uno degli agriturismi lombardi vai sul portale buona lombardia e scopri l'agriturismo che fa per te